quando sei in cima si vai a porta allora o o o o Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non vale, lui ci ricorda i passaggi diversi. Dai in piedi, prima, prima e guida. Grazie a tutti. Vai di lì, passa sopra. E' un po' più facile. Ah, lo tirate in giù, scemo! Vado a fare il sesso del press. Lo fai? Lo fai? Sesso del press. Va oggi. Ma va, oggi lo fai. Buongiorno. 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 No, cazzo, un pelino ancora. Un pelino in più c'era. Devi puntarlo qua. Se lo punti di lì ti scappa fuori. Ma è uguale, non cambia niente, è accompagnato, è accompagnato, devi provo a puntarla lì in mezzo, perché se lo punti di qua ti scappa giù. Lì, vai, vai qua. Vai qua. Il fango, il schio e le pietra bagnata. Ma va su di inerzia, su di inerzia. Ho visto malissimo. Tanto lo sapevo che ti fa posso scappare. Buongiorno. Buongiorno. Grazie